La social tv del Consiglio regionale è uno spazio cross-mediale dove convergono social media e televisione. Il progetto raccoglie in un unico luogo, in rete, tutti i prodotti video realizzati dall'Assemblea piemontese, divisi per categoria e immediatamente fruibili. Da oggi il Consiglio regionale del Piemonte ha una propria social tv, un spazio cross-mediale su quale converge tutto il nostro streaming, tutte le nuove tecnologie, i nuovi social network su quali siamo impegnati ormai da oltre un anno. È una grande soddisfazione, ancora un passo in avanti verso un palazzo di vetro, dando la possibilità a tutti di entrare quotidianamente nel Consiglio regionale e soprattutto attraverso questi nuovi canali anche essere al passo con i tempi sulla nuova comunicazione. È disponibile anche un canale live dove poter seguire i numerosi eventi trasmessi in streaming, come le sedute d'aula o i convegni in salaviglione. La social tv è visibile e ottimizzata per tutti i più moderni tablet e smartphone all'indirizzo www.crpiemonte.tv Grazie mille! Grazie mille! Grazie.